ciao siamo le insegnanti di colibri cecilia chiara silvia facciamo corsi online per prepararsi all'esame b1 per la cittadinanza italiana ed ecco sei motivi per studiare con noi motivo numero siamo tre insegnanti molto esperte e conosciamo molto bene gli esami b1 per la cittadinanza per questo motivo possiamo darti dei consigli utili per affrontare la prova con tranquillità e sicurezza motivo numero 2 studiare con noi è comodo i nostri corsi sono online li puoi seguire da ogni parte del mondo tranquillamente a casa tua e puoi scegliere l'orario migliore per te al mattino alla sera o nel weekend motivo numero 3 i nostri corsi sono brevi e specifici in poche lezioni potrai capire come funziona l'esame facciamo prove di tutte le parti dell'esame ascolto lettura scrittura e parlato ripassiamo anche la grammatica e il vocabolario utile e lasciamo dei materiali per esercitarsi dopo le lezioni motivo numero i nostri corsi sono in piccoli gruppi di massimo cinque persone questo ci dà la possibilità di rispondere alle tue domande di chiarire i tuoi dubbi e di aiutarti a migliorare nelle prove che ti sembrano più difficili chi preferisce può prepararsi con lezioni individuali da solo con l'insegnante motivo numero 5 il nostro metodo funziona il 90 per cento degli studenti che ha studiato con noi ha superato l'esame motivo numero 6 ultimo motivo ma davvero molto importante le persone che hanno studiato con noi sono contente dei nostri corsi e li consiglierebbero agli amici sentite cosa dicono sono contenta di aver fatto il corso di preparazione all'esame di uno cittadinanza con voi e sono molto soddisfatta perché il corso era ben fatto e ben organizzato che abbiamo fatto un gruppo di studio facendo delle attività di allenamento sia teorico che pratico grazie a libri ho frequentato un breve programma online che mi ha consentito di superare con un successo l'esame che è molto interessante ve lo consiglio un corso intensivo e molto utile quindi mi sono trovato benissimo perciò ve lo consiglio in bocca al lupo grazie per tutto grazie per avere informazioni sui nostri corsi scrivici a corsi punto colibri chiocciola gmail.com e segui i nostri social i link sono sotto al video in descrizione ti aspettiamo ciao